Questo è Joe e questa è la sua foto dell'anno scorso. Vedi la differenza? Ha avuto un problema di perdita di capelli, ma dopo aver trovato la clinica di trapianto del dottor Sinek ha risolto la situazione. E tutto questo in poco tempo, con un medico di fiducia, ma soprattutto in modo conveniente. Diamo uno sguardo alla sua avventura. Joe era alla ricerca di un trapianto di capelli di alta qualità, conveniente e con un buon medico. Ha trovato alcune cliniche, ma tutti con gli stessi problemi, i trattamenti sono effettuati da tecnici e infermieri, tutti con un atteggiamento poco riguardoso, quasi nessuna esperienza nel trapianto di capelli o prezzi assurdi. Dopo mesi di ricerche ha finalmente trovato il dottor Sinek. Sapeva di essere al posto giusto, perché il dottor Sinek fa le operazioni lui stesso. Non solo ha oltre 10.000 risultati soddisfacenti con il metodo FUE di trapianto di capelli, ma ha anche i certificati ISHRS e JCE USA. Ha centinaia di recensioni positive su internet e i suoi tassi di prezzo sono l'80% più economici rispetto alla maggior parte dei paesi, come USA, Regno Unito, Europa o Canada. Joe ha inviato le immagini della situazione attuale dei suoi capelli. Sulla base di queste, il dottor Sinek progetta un piano di trattamento individuale e manda a Joe una valutazione dettagliata. Inoltre, risponde a tutte le sue domande. Tutto ciò che Joe deve fare è prenotare il volo, inviare l'immagine del biglietto all'assistente del dottor Sinek e preparare i bagagli. Alla clinica del dottor Sinek, tutti i preesami e le analisi vengono fatte dagli specialisti del dottor Sinek. Il trattamento è svolto dal dottor Sinek in persona, in un ambiente molto rilassante. Joe può anche guardare il suo show televisivo preferito durante il trattamento. Il trattamento inizia con gli infermieri del dottor Sinek, loro aumentano il numero di capelli mentre il dottor Sinek controlla ogni passo. Dopo l'esame finale dei suoi capelli con il dottor Sinek, Joe torna a casa. È molto felice e stupito che l'intera procedura fosse veloce, professionale e senza complicazioni. Questo è stato il viaggio per il trappianto di capelli di Joe. Ha ricevuto il suo trattamento con un grande dottore e ad un prezzo accessibile. Se hai gli stessi problemi di Joe, contatta il dottor Sinek al 90 542 234 0334 o italiachiocciolaembramsinic.com. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ja.